Il treno è autostipo, 39 in treno Italia, provinia in Pesanini, a piedi verso Milano Centrale, 6 ore 15 e 40, è in arrivo a Milano. Attenzione, allontanarci dalla linea Giazza, non sono per tutte le giornate interventi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti! Grazie a tutti!